Stavolta lo specialista dei furti nelle palestre è andata male. Aveva colpito in varie parti d'Italia e non aveva tralasciato nemmeno Parma. Il 6 ottobre aveva raggiunto una struttura cittadina e aveva prelevato dagli armadietti degli spogliatoi oltre 1000 euro da alcuni portafogli. Poi, come avevano documentato le immagini della videosorveglianza, si era tranquillamente allontanato in taxi. La squadra mobile ha ricostruito la vicenda ed è risalita ad un romano di 40 anni. L'uomo è stato indagato per furto aggravato e continuato. La sezione antirapine ha invece arrestato un 65enne responsabile di un furto in appartamento in Toscana. Deve scontare una pena residua di due mesi. È stato trasferito in carcere. Gli agenti dell'antidroga hanno invece denunciato un albanese di 25 anni che nel suo appartamento in ontre torrente coltivava 50 piante di marijuana. E a proposito di droga è finito in carcere un 28enne della costa d'Avorio che si trovava ai domiciliari per spaccio. Il giovane non rispettava le prescrizioni imposte dalla misura cautelare e il padre del 28enne, preoccupato per le frequentazioni e per la deriva del figlio, ha avvisato i carabinieri.